RLB radioattiva 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 RLB dicembre 2015 il primo anno di radioattiva Che mattinata impegnativa oggi buongiorno Edoardo Maruca e Simona Gambaro stamattina hanno tanti ospiti abbiamo appena lasciato salutato l'assessore Loredana Pastore da assessore ad assessore ce ne andiamo perché abbiamo Facciamo la giunta qui in radio Facciamo la riunione di giunta la facciamo qui Anche perché per non molto dovrebbe arrivare un altro assessore con il sindaco Però adesso abbiamo davvero uno dei nostri assi nella manica e nella comunicazione Lei è quella che svegliamo la mattina presto alle otto e mezza E' sempre brava devo dire che questo assessore è davvero un piacere ed è fresca Giulia Fresca buongiorno Grazie grazie buongiorno a tutti quanti voi Ai radioascoltatori perché è bello anche dire radioascoltatori E auguri ad RLB Grazie Grazie Insomma con Giulia Fresca l'angosciamo per Piazza Fera intanto su tutto Piazza Bilotti Piazza Bilotti adesso su tutto Poi dopo abbiamo sicuramente tutte le altre Le altre contestualizzazioni Sì la viabilità, la mobilità, gli autobus, l'area urbana insomma in generale Quindi è la domanda un po' che facciamo a tutti Quindi la rivolgiamo anche all'assessore Fresca Allora questo 2015 ce lo lasciamo tra poco alle spalle Che cosa raccogliamo da quest'anno ma cosa soprattutto portiamo dal 2015 al 2016 No? Una sorta di buon auspicio Cosa portiamo? I cantieri Ah che bello il cantiere ci vuole Portiamo i cantieri Il cantiere in quanto tale è proprio l'anima di tutto Vuol dire che si costruisce Vuol dire che si costruisce, vuol dire che c'è lavoro, vuol dire che c'è economia che gira Vuol dire che ci sono progetti che si realizzano Quindi la parola cantiere è tutto È questo, racchiude questo La pagina che ho creato su Facebook che è Cosenza Cantieri Aperto è veramente una pagina alla quale accedono tante 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 persone Sì anche per vedere lo stato dei lavori Ed è stata creata proprio per questo Per seguire lo stato dei lavori Per rendersi conto di quello che si sta facendo in città E per avere anche l'invito ad andare a vedere le cose realmente proprio di persona Quindi sicuramente traghettiamo il 2015 nel 2016 attraverso i cantieri Attraverso le gru, attraverso le opere che si stanno facendo Ci sarà una stagione delle inaugurazioni che non è legata alla campagna elettorale Ma è legata proprio alla fine naturale delle attività lavorative E quindi questo è una cosa che ci porterà molto bello Saranno messi molto freddi perché noi adesso ci stiamo godendo questo sole Ma prima o poi ci punirà questo tempo Però io già ho paura che per gennaio comincieremo a sentire il freddo vero E quindi con i cantieri tante speranze e tanti auguri veri alla città di Cosenza Che inizierà il 2016 con un nuovo skyline, un nuovo corso Un nuovo modo poi di vivere anche la città E quindi sicuramente un Natale anche per la città di Cosenza Finalmente avremo una piazza insomma Io devo dire ci sono state delle generazioni che hanno vissuto in questa città E chiaramente in altre epoche Senza avere una vera piazza Perché insomma Piazza Loreto ha delle condizioni più modeste Ma anche Piazza Pilotti stessa era ridotta ormai ad un parcheggio C'era una cosa sinceramente per quanto mi riguarda bruttissima da vedere Cioè uno spazio così grande solo a auto No, Piazza Pilotti non è mai stata una piazza Ecco Ecco perché questo bisogna dirlo Quello era un lotto inedificato lasciato lì ad uso parcheggio esterno Esatto Quindi la piazza, se ci fosse stata una piazza avrebbe avuto tutto quello che è piazza Cioè delle fontane, delle panchine, degli alberi Non c'è mai stato Quello era una lastra abitumata dove sopra c'erano delle auto parcheggiate Si adattava al ruolo di piazza quando c'erano magari delle grandi manifestazioni Ma sostanzialmente non lo è mai stata Quindi più che piazza avrebbero dovuto chiamarlo largo Largo, sì esatto Oggi diventa una piazza Oggi sarà una piazza Sicuramente onore al merito a questa giunta Poi ci sono anche tante altre cose da fare voglio dire Perché lì andando vedendo si dice Ce ne sono chissà quante Però sicuramente la città adesso è diversa Riconosciamo che è diversa È vero, nonostante magari, questo lo diciamo perché comunque Chi ci ascolta magari è un commerciante di quella zona Allora diciamo ci vuole sì Un po' di pazienza c'è voluta Sicuramente ce ne vorrà ancora Però poi il risultato sarà estremamente diverso Assolutamente Siamo sicuri di questo Ma diventerà anche il centro nevalgico Forse l'assessore li ringrazia anche per la pazienza I commercianti Li ho sempre ringraziati Li ho sempre ringraziati perché Loro vivono veramente il cantiere insieme proprio agli operai È un cantiere semplice dal punto di vista delle strutture Che si sono poste in opera Però è difficile dal punto di vista della logistica Perché un cantiere al centro della città Non ha creato soltanto disagi ai commercianti Che in particolar modo a loro Però un po' a tutti Lì vicino ci sono le scuole Ha creato disagi a chi porta i bambini a scuola I figli Quindi c'è stata una partecipazione reale di tutta la città In questo cantiere Quindi se c'è una Se ci sarà una festa E ci sarà presto La festa è della città di tutti i cittadini Quindi l'onore va sicuramente a tutti quanti loro Grazie Cosa dire di più? Niente, siamo contenti che è venuta a trovarci È vero Grazie ancora, Assessore Ci fa tanto piacere questo contatto Arrivederci alla prossima telefonata Grazie a voi Buongiorno, grazie Arrivederci